Quando un ammalato si risveglia dalla narcosi in genere emette suoni più o meno indistinti, poi comincia a pronunciare delle parole confuse e Togliatti non fu un'eccezione in questo senso. Però rapidamente si cominciò a delineare un fraseggiare più composto e borbottava, mi hanno sparato, mi hanno sparato, che stupido, che stupido. Poi si arrestò e sembrava concentrarsi e pronunciò ripetutamente una frase in latino, forse adesso io non la ripeto in modo corretto. Ominum aziones noli ridere, noli despicere, noli lugere, sed intelligere. Bene, ripeto, forse non è corretto come la ripeto io e forse non è nemmeno corretto da quanto mi ricordo come la disse lui, il significato però era inequivocabile. Le azioni degli uomini, non deriderle, non piangerci, non disprezzarle, ma cerca di capirle.